I parchi dell'Emilia Centrale si occupa della gestione dei parchi, delle riserve, delle aree protette collocate nei territori delle province di Modena e di Reggio. Quindi dei parchi dell'Alto Appennino Modenese, il parco del Frignano, il parco di Sassi Rocca Malatina, le quattro riserve collocate fra Modena e Reggio, Sassi Guilano Pavullo, Sassi di Nireno a Fioreno, Campo Trera a Canossa e Campeggine e Fontenini di Valerè. Presentiamo proprio fresca di stampa la carta escursionistica del parco dei Sassi Rocca Malatina e dei comuni che fanno riferimento al parco, il comune di Guiglia, di Zocca e di Marano. Quindi è carta escursionistica che consente di visitare e vivere quello che è l'ambiente, uno degli ambienti di cui ci occupiamo come ente i parchi dell'Emilia Centrale, appunto il parco di Sassi Rocca Malatina, molto interessante da un punto di vista del suo ambiente, del suo paesaggio, tipicamente rurale. con molti centri di interesse storico e soprattutto un ambiente da vivere molto interessante con la presenza di quelle che io chiamo le Dolomiti in casa nostra, i Sassi Rocca Malatina.